L'andata della finale play-off nel girone D della Serie B di Futsal, con in palio una buona fetta del pass per la 2. Il CLN Cusmoli se viaggia alla volta di Fano, dove domani pomeriggio, calcio all'inizio alle ore 16, sarà ospite dell'Eta Beta Football. Quintetto è arrivato a troncare le speranze play-off all'ultima di regular season dell'altro team campobassano della Chaminade. I fanesi in semifinale sono usciti ad avere la meglio sul Cus Ancona. Formazione questa è arrivata seconda al termine della stagione regolare. E lo hanno fatto grazie al 3-1 ottenuto in trasferta a Castelfidardo, dopo lo 0-0 tra le mura amiche dell'andata. Dalla sua, il tecnico dei Cussini, Marco Sanginario, forte dello splendido esploat ottenuto nel ritorno dei quarti di finale contro il Città di Chieti, è pronta ad affrontare questa nuova tappa con il massimo dell'entusiasmo. Il ritorno di questa gara ci sarà sabato primo giugno al Palau Unimol di Campobasso. A dirigere il match in terra marchigiana saranno Simone Pisani di Aprilia ed Alessandro Canizzaro di Ravenna. di Ravenna anche il cronometrista, ossia Luca Levis.